E questa mattina è ritornato nei nostri studi un graditissimo ospite, Don Giuseppe Ruppi, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Ben trovato, pace e gioia Don Pino. Pace e gioia, salve, buongiorno a te e buongiorno ai nostri telespettatori. Questa mattina Don Pino, dopo l'esperienza della tua predicazione qui a San Giovanni Rotondo, ci vogliamo concentrare su alcune tematiche molto interessanti, mutuate dall'attività che tu svolgi presso il Redentore di Bari. Questa opera salesiana che è situata nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese, è una realtà che poi ha diverse ramificazioni, potremmo dire così. Questa mattina ci vogliamo concentrare su una in particolare, il laboratorio Don Bosco Oggi, di cui tu sei presidente, che svolge davvero tantissime attività. Vedremo anche ora attraverso la pagina Facebook alcune di queste, che sono appunto state organizzate, educazione, cultura e pastorale. Eccola qui la pagina, grazie alla nostra regia. E queste attività, alcune di queste attività, hanno trovato anche uno sbocco editoriale, potremmo dire così. Questa mattina vogliamo parlare nello specifico dell'ultima fatica editoriale del laboratorio Don Bosco Oggi, che tu hai curato, il Vangelo e la politica, valori, modelli, esperienze, giornate di studio 2022. Allora io partirei dal generale Don Pino e dall'attività del laboratorio Don Bosco Oggi, di come si arriva poi a parlare di sociale, di politica, grazie anche alla spiritualità di San Giovanni Bosco. L'Istituto Salesiano del Redentore di Bari è nato nel 1905 e al suo interno ha avuto sempre diverse esperienze settoriali, di intervento educativo, ma è sempre stato attento alle dimensioni culturali della realtà locale, ma anche della realtà un po' in genere. Già negli anni Sessanta venne a costituirsi all'interno della comunità del Redentore proprio un centro catechistico che serviva un po' tutta la regione Puglia. Poi, aumentando sempre più il lavoro, le due comunità furono divise e sorse proprio una comunità dedicata, unicamente una comunità salesiana, dedicata proprio in maniera totale alle attenzioni pedagogiche, catechetiche, culturali, insomma, del nostro ambiente educativo, del nostro sistema preventivo. E quindi sorse il centro pedagogico meridionale che era tenuto appunto dalla comunità salesiana del centro catechistico. Ora, questa attenzione poi nel tempo chiaramente ha avuto momenti di molta presenza e momenti anche di bassa presenza. Ultimamente, da una decina di anni, c'era stato un calo di questa presenza, fino a quando nel 2013 il capitolo ispettoriale dei salesiani di Don Bosco dell'Italia Meridionale volle creare un ambiente specifico, un ambiente che curasse queste tre dimensioni, l'educativo, la cultura e l'azione pastorale. E per cui, ecco, fu affidata di nuovo alla comunità del Redentore questa ricerca. Come poter fare? Nacque nel 2015, anno del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, nacque l'APS Laboratorio Don Bosco, oggi Educazione e Cultura Pastorale. Di qui venne il progetto anche su questa APS, quale doveva essere il suo significato. E si volle iniziare come programma con un'attività molto importante, quella della formazione sociopolitica. Il Laboratorio Don Bosco vuole rispondere praticamente a quelle che sono le sfide dell'oggi dettate dai giovani. Abbiamo notato che nella cultura giovanile veniva sempre di più a instaurarsi una specie di distacco, di allontanamento da quelle che possono essere le istituzioni, le realtà istituzionali, la politica in modo particolare. Anche perché spesso la politica viene assorta, viene anche così risolta come movimento partitico o movimento ideologico. Invece la politica per noi ha una realtà educativa molto importante, perché ci educa a fare il bene comune, o come meglio direbbe Papa San Paolo VI, la civiltà dell'amore, a costituire la civiltà dell'amore. San Paolo VI diceva anche che la politica è la più alta forma di carità. Esatto. È una delle espressioni più belle che descrivono l'arte politica. Veniamo allora a Don Pino, a questo ultimo libro, edito da IF Press, Il Vangelo e la politica, Valori, Modelli e Esperienze, che vuole essere un po' il riassunto di queste giornate di studio che si sono tenute a maggio del 2022, alla presenza di alcuni relatori molto importanti, il professor di Biceglia dell'Università Pontificia Salesiana e della Facoltà Teologica Pugliese, il professor Sergio Tanzarella, il professor Michele Illiceto, il professor Giuseppe Acocella. Ecco, attraverso questa giornata di studio voi avete voluto in qualche maniera soffermarvi su alcune delle figure più importanti del panorama sociopolitico italiano del Novecento, Luigi Sturzo, Giorgio Lapira, ma ancora i laici, i tanti laici che hanno onorato davvero quest'arte nobile che è la politica. Allora, qual è il senso del Vangelo e della politica? Questa attenzione nasce proprio all'interno di quello che dicevo, la dottrina sociale e politica della Chiesa. E noi abbiamo già nel 2017 pubblicato un altro testo che riassumeva i due anni di formazione sociopolitica che avevamo fatto. Ecco perché il testo Buoni Cristiani e Onesti Cittadini apriva un po' proprio un progetto di pensiero, un progetto didattico per poter avviare i giovani alla cultura della dottrina sociale e politica. Dopo quel corso abbiamo pensato di trovare uno stratagemma, cioè come però rendere sempre più pratica questa realtà del confronto tra Vangelo e politica e quindi indicare anche ai giovani credenti particolarmente un'attenzione del loro vissuto di credenti e quindi in modo particolare abbiamo creato questa struttura Vangelo e politica valori, esperienze e modelli. Le giornate di studio del 2022 hanno voluto tenere in conto il caso del Novecento che si presentava attraverso queste tre grandi figure. Sturzo, il fondatore, l'orientatore, Giorgio Lapira, il sindaco santo, il sindaco che si occupava proprio delle cose della politica in una forma evangelica, proprio piena di quella realtà che San Paolo VI, tu stesso lo hai citato, poc'anzi, definiva la più alta carità. E poi Aldomoro, uno statista pugliese, uno statista che ha dato veramente tutto di se stesso, dove più che essere ricordato per il suo martirio degli ultimi giorni della sua esistenza, in modo particolare viene ricordato come il politico che ha vissuto una testimonianza, una martiuria autentica della presenza evangelica nella società. Ecco, allora, le giornate di studio del 2022 sono state celebrate proprio in questa maniera. La miscellanea che raccoglie queste relazioni curata dal professor Di Bisceglia e dal sottoscritto erano proprio, potevano avere proprio questa attenzione, cioè cercare di lasciare dei testi su cui meditare e poter così confrontarsi per una reale strategia politica, ma educativa e politica. Perché il nostro compito è fondamentalmente questo, educare a curare la politica. Perché Vangelo non è soltanto in congiunzione con politica, non è soltanto Vangelo è politica, ma è Vangelo è politica. Come politica è Vangelo. Sì, perché la politica deve essere intesa come l'educazione al bene comune, l'essere capaci di essere educati nella ricerca del bene comune. Ed è questo il Vangelo in atto. Il Vangelo in atto non può essere che la ricerca del bene comune. Don Pino, per concludere, noi ci stiamo avvicinando ad un appuntamento elettorale importantissimo, rinnoveremo a breve il Parlamento europeo, diverse città sono chiamate anche a rinnovare i propri sindaci, i consigli comunali. Dunque si avvicina una stagione importante dal punto di vista elettorale e politico. Per concludere, secondo te, come i giovani possono innamorarsi, non tornare ad innamorarsi, perché parecchi giovani non sono mai stati innamorati della politica, credo, ma non l'hanno proprio conosciuta. Ecco, allora, come dare un senso diverso alla politica, quando purtroppo la politica stessa non offre degli esempi genuini, limpidi da questo punto di vista? Bisogna educarsi alla politica, come dicevamo a poc'anzi. Ci si educa entrando nel volontariato del bene comune, cioè in questo desiderio, veramente, di non vivere una vita soltanto a pieno egoismo, cioè a pieno se stesso, ma a impratichirsi nel saper fare il meglio per gli altri, in mettersi veramente a disposizione. Questa è vera politica. E la vera politica ci aiuterà poi ad educarci, a saper discernere qual è il meglio del programma che un determinato candidato, un determinato partito può espormi. Rientra realmente in quello che l'Euangelium, la buona notizia, mi dice di vivere. Ciò che io professo è veramente da vivere? E allora diventare sempre più dei politici che esprimono il desiderio di fare il bene comune, non dicono parole, ma dicono fatti. In una battuta, Don Pino, quali saranno allora i prossimi passi del Laboratorio Don Bosco oggi? Prossimo, nel 2023 abbiamo costituito l'attenzione alla Costituzione, l'educazione alla Costituzione della Repubblica Italiana e a breve uscirà anche la miscellania sulle giornate di studio del 2023. Mentre stiamo già preparando le giornate di studio del 2024 che saranno sull'economia di Papa Francesco. C'è bello dunque. Allora argomenti molto molto interessanti ed attuali. Allora ricordiamo Il Vangelo e la politica Valori, modelli, esperienze edito da IF Press a cura di Angelo Giuseppe Di Bicelli e Giuseppe Ruppi con la presentazione di Monsignor Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari Bitonto. Don Pino, grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Andiamo in pubblicità, linea alla regia e poi ancora insieme. Grazie a tutti. 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 Grazie.